Oggi è lunedì. Oggi ha vinto il no al referendum e che cosa cambierà per noi? Assolutamente niente. E se avesse vinto il sì sarebbe cambiato qualcosa per noi? Assolutamente no. Quindi bando alle ciance e andiamo avanti con i nostri consigli di oggi è lunedì. Nuova settimana, nuovo consiglio da applicare. Natale sta arrivando. Quindi per le vacanze di Natale fatti preparare da un grafico tipo un carnet di assegni dei coupon per una visita gratuita presso il tuo studio sulle patologie più comuni. Un esempio visita gratuita posturale, mal di schiena visita gratuita, dolore al collo visita gratuita. Mi raccomando inserisci il valore della visita esempio 50 euro barrato vicino omaggio sulla grafica. Consegna questo carnet di assegni o questi coupon omaggio direttamente ai tuoi pazienti in modo che li regalino direttamente ai loro parenti più cari. In questo modo oltre che a dare un servizio ai tuoi clienti, visto che fare i regali di Natale non è sempre cosa semplice, aumenterai il numero dei pazienti all'interno del tuo studio subito dopo le vacanze natalizie, pazienti oltretutto del tuo territorio e pazienti che verranno da te fidandosi perché hanno già un feedback positivo da parte del parente che è stato presso il tuo studio e che è stato curato da te. Questa è una piccola idea per sfruttare le vacanze natalizie e per trovare nuovi potenziali pazienti. Come sempre alla fine di ogni video ti chiedo cosa ne pensi, lo farai, già lo hai fatto, quali sono state le tue esperienze? Scrivimelo qui sotto. Mi raccomando iscriviti alla community di Fisiogo al sito www.fisiogoitalia.com e se sei un fisioterapista laureato www.fisioterapistalaureato.com. Da settimana prossima inizieremo i video di oggi lunedì in collaborazione con Vettore Medical e un'altra cosa importante che volevo dirvi è che abbiamo attivato una collaborazione con il Registro Nazionale Reabilitatori cioè RIR e presto ci saranno molte grosse novità per i diritti dei fisioterapisti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!